Buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, ci sono mezzi in lento movimento tra Val di Chiana e Chiusi in direzione Roma, in direzione Firenze tra Roncobilaccio e Aglio al chilometro 255, personale su strada. Ancora sulla 1 il traffico è rallentato per materiali dispersi tra Arezzo e Valdarno, direzione del capoluogo. Passiamo alla 11, personale su strada tra il Biveo A11, raccordo A12 e il raccordo Lucca-Viareggio in direzione di Firenze. C'è una coda per viabilità esterna che non riceve e sulla Firenze-Pisarivorno siamo a Scandici in uscita da Firenze. E a Firenze, ricordo, permane la chiusura del quadrante di Via Mariti, tutti i dettagli sui nostri canali social. È tutto per il momento, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a tutti.